C'era una volta un uomo e una donna. Si incantrarono nel 2020, nel mezzo della grande pandemia. In quel preciso momento si innamorarono e cominciarono a fare musica insieme, come ad oggi la storia prosegue. E' l'alba al margini della terra del sonno, dove la rugiada galleggia, come una piuma appena sopra, le acque scure del stagno della foresta. Tutto intorno è ancora tranquillo. Anche noi, mentre insaminiamo il lungomare, con i nostri occhi, guardate i nostri palloncini bianchi, così pieni di sogni. Sogni, tu e me e i nostri insieme. E' inutile dire che gallegheranno lì per sempre. Ti prendo la mano. Grazie. 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 Grazie a tutti.